Senigalli ospita l'undicesimo seminario internazionale di educazione interculturale. Qual è il valore di questa iniziativa? Un valore importante perché innanzitutto come Consiglio regionale cerchiamo sempre di sostenere iniziative di questo tipo e ancora di più in questa occasione perché si parla di multiculturalità, di globalizzazione che sono temi al centro dell'attenzione soprattutto in questo periodo particolarmente complicato a livello mondiale. E anche e soprattutto per il nostro paese in cui c'è una grandissima attenzione ad esempio sul tema dell'immigrazione. È rilevante anche il fatto che il CVM abbia voluto coinvolgere i docenti e le scuole perché credo che soprattutto attraverso i docenti e con i ragazzi si debba lavorare su questi argomenti.